In sala tutti e benvenuti a Neisa 101. Un saluto a tutti e benvenuti a Genovese 101, il primo videocorso in italiano sul genovese e la lingua ligure. Oggi ampliamo il discorso sui avverbi e i pronomi interrogativi, aggiungendo alcuni elementi che non abbiamo trattato nell'episodio precedente. In genovese cosa si può tradurre in due maniere differenti. Quando parliamo del pronome interrogativo, cosa è tradotto in cose. Al contrario, per parlare dell'oggetto useremo il termine cosa. Farete caso, come in genovese, l'interrogativo che cosa viene semplicemente tradotto in cose. Andiamo a vedere un esempio. Una volta identificata questa differenza, sarà facile capire quando si parla del pronome o quando si parla di un oggetto. In secondo luogo, volevamo menzionare che perché ha un sinonimo, per cose, che però al giorno nostro è caduto in disuso e viene utilizzato solo da alcuni dialetti arcaici o altrimenti a scopo letterario. Ora che abbiamo menzionato questi due elementi, possiamo aggiungere alcune frasi per il nostro repertorio. Sfruttiamo questa occasione per osservare come alcuni nomi e soprannomi di genere femminile in genovese presentano l'articolo al maschile e travolta anche alla finale. Notiamo questo falso amico francese-genovese. Un n'è pas bleu in genovese vuol dire ci sembra blu, ma in francese il n'è pas bleu vuol dire non è blu. Piccola nota, in genovese la proposizione A seguita dall'articolo si accorda alla data del calendario. Di conseguenza, a parte per 1, ovviamente, tutti gli altri numeri saranno seguiti dall'articolo plurale, come nel caso appena visto. Quindi avremo al primo di giugno, ma allo stesso tempo ai 2, ai 3, ai 10, ai 20, ai 30 di giugno. Finisce qui l'episodio di oggi di Zeneise 101. Vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci rivedremo al prossimo episodio. A neveise! A neveise!